E' stata una gara intensa, sono contenta di aver finalmente vinto questo campionato italiano di Duotron insieme ai miei compagni e le nostre nuove reclute Elena e Delian. E' stata una gara che è partita subito bene con Elena che ha tenuto botta alle specialiste del Duotron, poi Delian che mi ha dato la possibilità di gareggiare davanti staccata da sola e poi ce lo conosciamo, lui è partito davanti, è incrementato ancora e siamo riusciti a vincere questo titolo. Gareggiare la squadra è sempre emozionante, ti dà la carica in più e vincere con dei compagni che poi sono anche amici e compagni di fatica è la cosa più bella. Siamo contenti di questo secondo posto, quest'anno abbiamo dovuto lasciare il titolo alle Fiamme Azzurre che oggi oggettivamente sono state più forti. Noi siamo stati in lotta per le medaglie fino all'ultimo e Secchiere è riuscito in volata a prendere argento, quindi siamo contenti oggi di aver fatto questa gara e tutta la squadra è stata unita per raggiungere questo risultato. Mi dispiace un po' per il titolo perché si parte sempre per vincere, però ogni tanto quando gli avversari sono più forti bisogna riconoscere il loro merito e quindi essere contenti anche oggi del secondo posto.